È una soluzione problematica Che aggiunge problemi al problema Giusto E se tutti iniziassero a fare così È il caos È il caos totale Non è che so come te, Pela Che sei un bravo ragazzo Esatto Uno che va a fare dei borsetti Ma poi perché secondo te ci mandano ragazze Io parlo di quella fascia là Perché ci mandano ragazze piccole Incinte Perché si sa Che ci sono dei rischi Quindi come fai a dire che ci avrebbero avuto paura E ci avranno paura C'ha ragione Simone Non cambi un cazzo Perché queste cose sono già messe Perché voi non siete arrivati Voi non siete arrivati a metà video Te lo dico io Immaginando Se Pileggi a me per 10 minuti di fila Mi sta attaccato così Grazie a tutti Sì ma non è che cambia Pileggi che te mena Non cambierà il tuo contesto sociale Non cambierà dove cosa ti ha portato Basta cambiare stazione Hai capito Non vai più a Barberini Vai a Levanto Vai a Levanto A metro C Che cazzo è solo Ma non è che si tromba Queste persone che borseggiano Salgono su una stazione Fanno quello che devo fa Scena nanartra Fanno quello che devono fa Non stanno in una stazione Non stanno neanche in una linea Si muovono In continuazione Ci sono più punti critici C'è Barberini Fontana di Trevi C'è Piazza di Spagna C'è Roma Termini C'è San Gio C'è noi stanno una marea Si muovono in una maniera Che non è neanche counterabile Capisci? Roma Termini è tipo L'headquarter principale Desta gente Stanno tre metro a Roma Questa cosa che l'umiliazione In qualche modo Sia educatrice È il concetto della gogna Ma si faceva nel medioevo Non esiste che tu umili una persona Per tentare di correggere La metti in pubblica piazza Come in questo caso E gli fai tirare i pomodori Non serve con loro Perché sanno i rischi Se no non ve lo direbbero Ma con qualcuno Che fa questo tipo di attività La violenza è inutile Perché è già preventivata Nelle loro teste Che potrai subire violenza Se fai un furto Per quello dico Che è proprio inutile Il fattore violenza È inutile Comunque che te Sembravo ragazzo Giustamente C'è un contesto sociale diverso Dici io l'alternativa Cioè là è un'alternativa C'è pure il lavoro Dici piuttosto gioco a Piuttosto a una ruba Mi metto a giocare a Tekken Però se io No ma sai qual è proprio Il fatto mio Se io avessi bisogno Di soldi Proprio urgentemente Non mi metterei A fare queste cose Capito? Cioè quella Mi metterei a fare Magari altre cose Un po' più Tutto qua È quello che dovrebbero Fa' sti bastardi Sti testi De cazzo Aspetta mi stanno a chiamare E niente Te puoi mettere a fare altre cose Magari perché c'hai altre alternative Qui bisogna ripresentare loro Io rifletterei solo sul fatto Che magari te Pela Potevi nascere in quel contesto là E non facevi sto ragionamento Non avevi l'alternativa Di tornare a casa Che c'hai le comunità Che abbiamo pure noi È un discorso È uno sforzo Proprio di empatia E non bisogna giudicare Perché nel momento In cui tu giudichi Una persona La chiami bastarda Già non ti sta più A mettere nei suoi panni Perché ti ha perscondato Che tu non lo sei Io direi siamo tutti Bastardi Allora Se tu fai Un'infamità del genere A una signora Ad esempio anziana Che poi dopo La intervistano pure E a me sei l'infame Se tu lo fai Magari a un pischiello normale Certo Sei comunque l'infame Però non è la stessa cosa Perché dopo poi intervistano pure Una signora anziana Che dice Che è caduta E ha iniziato a urlare Non ha capito più niente Qui tu stai giustamente E ti capisco Stai a parlare di pancia No? E lo capisco Perché purtroppo È una cosa che ho subito Tanti po' di anni fa Quindi Uno fa lo sgambetto alla signora Uno fa lo sgambetto Uno fa uno sgambetto A una signora Uno come Pela Che magari C'è C'ha un sentimento anche Di empatia Magari anche verso la signora Porella Ti inalberi E massacri De botte Uno che ha fatto uno sgambetto Secondo me questo è sbagliato È dare una pena eccessiva È per questo che è stata creata La giurisprudenza E si cerca almeno Di avere Cioè il giusto Il giusto Non è che ti dico Devi fa Vent'anni di galera Però Ascoltami un attimo Sai qual è il fatto Che il giusto Deve essere Al massimo È un Comun denominatore Cioè non è Il concetto di giusto È individuale Poi come collettività Ci mettiamo d'accordo E decidiamo una pena Che Secondo le leggi Insomma L'ordinamento Reputiamo come giusta E c'è una discussione Costante nel tempo Come Anche l'introduzione Di nuovi reati No Pene più alte Più basse Cioè è una sorta di discussione Costante nella collettività Perché il mio concetto Di giusto Sarà diverso dal tuo Sarà diverso da quello De Chitano Sarà diverso da quello De Pileggi Per questo che usi Il consenso popolare Sì perché Poi sono sempre ovviamente Delle Discussioni che uno fa E portano ad un risultato Che è Non per forza ottimale Il discorso della democrazia Però io Ad esempio Agirei in modo Completamente diverso Da te E completamente diverso Da un cicalone di turno O da un Che cazzo ne so Floyd McWeather Capito? Cioè ognuno di noi Ha un metro diverso Di ciò che significa La pena giusta Poi Pela Non prende neanche In considerazione Che tu magari È giusto per te Mettichi le mani Addosso a quello Poi magari Tre fratelli De quello Reputeranno giusto Toglierti L'abilità motoria Ti spaccano le gambe E non cammini più Capisci? È un discorso Che secondo me Non va proprio fatto Secondo me Un'altra cosa Che porta altra violenza È un'altra cosa Che non si considera Sono legittimati pure quelli Purtroppo È una grande pallaccia Questo discorso Non è neanche La modulazione Della pena corretta Quella è la prima cosa Secondo me La seconda cosa È il risultato Cioè purtroppo Cioè questa Erronea convinzione Se io Do la lezione A questo tipo Lui imparerà La lezione Con modulazioni diverse Di pena Come dicevi tu Ma non è detto Cioè spesso È ottirare una moneta È come quando dicevo L'approccio brutale Nei confronti Di una persona Che vuole dimagrire O una persona Che non riesce a studiare Cioè se tu punisci E basta Non è che l'effetto Sarà per forza Di miglioria Prende certo Da persona a persona Spesso può diventare Molto più problematica Più rabbiosa Capito È quella la cosa Che io dico Per questo Sono comportamenti sbagliati Poi ovviamente La risposta Con educazione Se fan cazzo Meglio uno schiaffo De pileggi Che 20 ore D'educazione civica Scorsi boomer Del cazzo Che fanno i 50 anni E la risposta è Certo L'educazione civica Deve essere una via de mezzo Cioè L'educazione civica Non salverà tutti Certo La legge italiana Ha tanti buchi Certo Molto spesso Escono dal carcere Sto peggio di prima Ma non si può tornare La legge Che è più forte Capito Però è la Cosa proprio tribale Diciamo che è La migliore Delle soluzioni Ma non perfetta Ovviamente Questo dico Voglio Non gliene fega un cazzo Degli illeciti E sanno che resteranno impuniti A me sembra sì Un'autodescrizione Rispondono come ha risposto quello E c'erano la riguardia Poi è chiaro che Il problema Dei bosteggiatori E dei furti Nel mondo È un problema Quello che noi stiamo cercando Di dire Con estrema difficoltà Anche da anni Perché Cioè proprio Ci sono stati Degli episodi Anche pubblici Di proprio di Non lo posso dire Di tanta difficoltà Nel semplicemente Dire la nostra La nostra è Non siamo d'accordo Con questi metodi Non è che Perché poi dicono Voi difendete i lati Difendete No Ovviamente Ma anche questo Non è la soluzione E il fatto che Nessuno abbia la soluzione Non significa che Se ti inventi una soluzione Che in realtà è vecchissima Prendendo ispirazione Dalla preistoria Allora è quella La soluzione al problema No È una soluzione Problematica Che aggiunge problemi Al problema Giusto E se tutti iniziassero A fare così È il caos È il caos totale Non lo escludiamo Traete le vostre Personalissime conclusioni Ragionando su Quello che avete visto Quello che è stato detto Da noi Che non è la verità assoluta Da nessuno di noi tre Sono pareri Sono punti di vista E se stiamo esercitando La nostra libertà Di espressione Bravo giusto Vedendo dei contenuti pubblici Come facciamo da sempre Poi voi fatevi un'idea vostra Non vogliamo inculcarvi Proprio un cazzo di niente Non funziona così Quasi ragiona Quasi dibatte Quasi parla Si chiacchiera